ciao a tutti ragazzi finalmente è arrivato il nuovo launchpool di binance da non confondere con il launchpad è quello che c'è stato diciamo poco tempo fa per quanto riguarda i lazio fan token ma il launchpool è comunque un'ottima occasione per appunto poter guadagnare e funziona in modo leggermente diverso oggi è uscito appunto questo launchpool per quanto riguarda un gioco play to earn e in questo video vi spiegherò appunto come utilizzare questo il lancio in questione parla di dar dar che è ma nel sofadarnia sostanzialmente un gioco play to earn quindi un gioco che riguarda comunque gli nft e questo mondo diciamo questo metaverso che si sta sviluppando e dà la possibilità di mettere appunto in staking i vostri bnb o i vostri di usb per farmare i cosiddetti da robbero questo token che sarà allistato su binance è possibile farmare per 30 giorni e ricevere degli interessi andiamo a scoprire nel dettaglio il progetto e come partecipare a questo launchpool per partecipare al launchpool innanzitutto ragazzi quello che dobbiamo fare è andare su binance cliccare su launchpad riusciranno i vari progetti quello che interessa a noi è il launchpool che a differenza del launchpad non dovrete impegnare i vostri bnb e pagherete diciamo il token ad un determinato prezzo ma nel launchpool mettete i staking i vostri bnb in questo caso i vostri busd per farmare quello che è il token dar in questo caso quindi non pagherete effettivamente il token non è un lancio inizial coin offering diciamo la famosa esico nel quale impegnate i vostri bnb e poi alla fine del lancio vengono detrati bnb e pagate il token a un prezzo lancio e poi guadagnerete degli interessi ovviamente dalle dalle quote che avete messo in staking e in questo caso riceverete i vostri dar adesso vi faccio vedere anche l'esempio mio decidiamo la pool alla quale vogliamo partecipare il mio consiglio di partecipare alla pool di bnb e vi spiego subito perché le percentuali di dar dedicate alla pool di bnb sono più alte delle percentuali di dar della pool di busd e questo lo vedremo nella diciamo nella regolamentazione di questo lancio comunque vi dicevo basta cliccare sul lancio per decidere la pool la quale volete partecipare ovviamente trovate tutte le informazioni per quanto riguarda il sito web del gioco quello che dobbiamo fare è mettere in staking i nostri bnb la farm ragazzi durerà per 30 giorni solo che qua ci porta cinque giorni rimanenti per un semplice motivo che tra cinque giorni il token dar sarà allistato appunto su binance e quindi avrete la possibilità anche di scambiarli un'altra cosa un'altra cosa positiva del launch pool è che potete riscuotere le vostre ricompense ogni volta che volete il calcolo sarà fatto ogni ora e vi spiegherò adesso come verranno fatti i calcoli sul vostro diciamo sul vostro launch pool mettere i sedi in i vostri bnb non significherà bloccarli per un determinato periodo di tempo proprio perché quando mettete in staking i vostri bnb potete comunque se vedete questo tasto riscatta riprenderli quando volete a cosa serve mettere in staking i vostri bnb o i vostri bsd serve appunto a farmare questi dar che saranno dati in percentuale purtroppo ragazzi la percentuale non ve la posso dire perché come potete leggere le api saranno disponibili dopo la votazione del token quindi tra cinque giorni si sarà più o meno il rendimento di questa farm quello che però potete vedere è ogni ora le vostre ricompense aggiornate quindi potete già dopo un'ora iniziare a capire più o meno quelli che più o meno quelli che saranno diciamo gli interessi che riceverete io adesso ho messo i stagini 7,4 bnb e ho ricevuto da finato 0,11 dar quindi potete posso richiedere la ricompensa e vengono accreditati al mio account spot e tra cinque giorni ovviamente potrò decidere di venderli o farne qualsiasi altro utilizzo la differenza appunto sulla differenza rispetto alla non c'è che i miei bnb quando mi verranno restituiti o quando decido di riscattarli mi verranno da tutti indietro e non avrò pagato questi da come vengono calcolati calcolati gli interessi ovviamente non sappiamo adesso il rendimento di dar quale sostanzialmente mettiamo per ipotesi che in questo rendimento sia del 50 per cento un po come è stato per uno scorso launch full che era mo box non so se avete partecipato mettiamo ad ipotesi che il rendimento avia sia del 50 per cento come vengono calcolati questi interessi e quindi il vostro guadagno di dar ovviamente qua possiamo vedere le ricompense giornaliere del token saranno distribuiti un milione e 600 mila dar al giorno andando a vedere le regole cliccando su regole dettagliate possiamo vedere che la total supply di questo di questo dopo che ne sono 800 milioni che è una supply abbastanza grande però all'inizio ci sarà un circolato in supply quindi di soltanto 123 milioni ovvero il 15 per cento della supply totale per un balance launch full saranno distribuiti il 3 per cento ovvero 24 milioni di dar e saranno distribuiti ecco qua perché vi dicevo che la pool di bm da distribui conviene di più perché saranno distribuiti per la pool di bm 1 milione e 600 dar al giorno mentre per la pool di bm 400 mila dar al giorno quindi conviene ragazzi partecipare a questa poi dopo il listing continuare al farming quindi potrete ancora tenere i vostri bm staking e continuare a guadagnare dei dei dar ovviamente però dalla listing in poi i dar distribuiti saranno di meno sia per quanto riguarda la pool di bm sia per quanto riguarda la pool di bm ma anche allora conviene ancora mettere segni nella pool di bm ovviamente quando è che potrebbe invece diciamo convenire metterle nella pool di bsd quando magari la pool di bm dovesse diventare davvero molto più grande di quella di bsd allora in quel caso seppur distribuiscono più dar nella pool di bm convenerebbe comunque fare un attimo un calcolo per capire se magari a quel punto conviene la pool di bsd quindi vi stavo spiegando un attimo per quanto riguarda i rendimenti mettiamo ad esempio e questa pool distribuisce il 50 per cento di api i vostri interessi saranno distribuiti ogni ora infatti ogni ora potete richiedere le vostre ricompense e sarà esempio 50 per cento diviso i 12 mesi quindi avrete la percentuale mensile e quella sarà la percentuale che riceverete diciamo nei 30 giorni di farmi e volete invece sapere la percentuale giornaliera dovrete fare quella percentuale divisa i 30 giorni è vero ragazzi che come un po in lancio pad in questo caso ci guadagna sostanzialmente chi ha più soldi tra avete chi ha messo più bm o più verdi funziona un po così purtroppo chi mette davvero poco come è capitato magari nel lancio nel lancio parte che molte persone mi hanno chiesto ma io ho messo i miei sono riuscito ad avere soltanto un lazio fantoni faccio l'esempio di quel lancio purtroppo ragazzi è così per riuscire ad avere diciamo un grosso ritorno sui lancio e sui lancio bisogna avere tanti bm e quindi bisogna mettere purtroppo tanti bm o tanti bs di ma di solito o meglio questa non è una certezza di ripeto comunque di solito è sempre andato bene e c'è sempre stato diciamo un guadagno interessante il gioco in questione di ripeto adesso che aveva un attimo del gioco è un play to earn come ne stanno uscendo tantissimi nel quale c'è la possibilità di partecipare a questi giochi di creare un altro personaggio che avrà comunque diciamo delle caratteristiche che possono essere ecco armi attrezzature cose varie e da quello che ho letto il lato che ne può servire per acquistare anche queste cose perché ci sarà un mercato all'interno del gioco meglio c'è un mercato all'interno del gioco e questo mercato tra l'altro interno del gioco vi può permettere anche di guadagnare quindi ha una varia utilità il token tra quale la dao mi ne avrete se possiede il token avrete la possibilità di decidere delle cose per quanto riguarda il funzionamento diciamo un po del progetto e quindi a me è piaciuto un po il progetto bene da tanti mondi a tante cose da poter esplorare con l'interno di questo gioco non l'ho analizzato benissimo perché diciamo non ha avuto tempo quello che però ovviamente trovate i link in descrizione se volete approfondire se magari vi lascio di in descrizione se volete sapere di più sul gioco io in questo video ovviamente vi parlerò del lancio quello perché così come quando c'è stato il lancio padre ricevo tantissime domande sul funzionamento allora ho detto preferisco fare un video dettagliato nel quale spiega appunto come funziona il lancio faccio un piccolo e breve riassunto per chi è entrato adesso chi vuole partecipare al lancio di dar deve iscriversi a Binance innanzitutto ma penso che la maggior parte di voi saranno iscritti altrimenti trovate il link in descrizione andare nella voce launchpad adesso la riclicchiamo trovare il progetto launch pool che a differenza del launch pad non vi sottraerà BNB e questo già ve l'ho detto decidere alla pool da partecipare piccola nota che ho già detto attualmente conviene partecipare alla pool di BNB perché vengono distribuiti più dar nella pool di BNB come funziona il launch pool mettete staking i vostri BNB e BSD che serviranno a farmare il token dar ci saranno 1.600.000 dar distribuiti al giorno e tra cinque giorni questo token verrà listato su Binance quindi avrete la possibilità di vendere i va i dar che avete diciamo guadagnato le ricompenze possono essere richieste all'interno del launch pool ogni ora saranno ovviamente calcolate ogni ora e i vostri BNB messi staking possono essere riscattati quindi ripresi in qualsiasi momento potete guadagnare diciamo dal momento in cui mettete i staking i vostri BNB per 30 giorni solo che adesso qua ci dice tempo rimanente per la votazione perché sarà listato tra cinque giorni il token e dopo il listing non saranno più 1.600.000 dar ma scenderanno mi pare a 400.000 dar al giorno che saranno distribuiti quindi dopo il listing potete ancora continuare a farmare tenendo i staking i vostri BNB e vi ripeto a differenza di il lancio nel quale una volta impegnati non li potete togliere e poi vengono dei tratti BNB in relazione al numero di token che dovrete ricevere in questo caso non verrà dei tratto nessun BNB e guadagnerete soltanto degli interessi in base ai BNB che avete messo i staking la percentuale di rendimento ancora non è chiara sarà chiara dopo ovviamente il listing del token però potete farvi un'idea già dopo qualche ora ad esempio se mettete un BNB e dopo un'ora vedete che avete accumulato 0,1 dar potete fare un calcolo di quantità riceverete in una giornata e così in cinque giorni tra cinque giorni potete decidere di vendere il token utilizzarlo per magari giocare al gioco in questione e fare quindi un guadagno spero sia stato tutto chiaro ragazzi se c'è qualcosa che non avete capito o volete un approfondimento me lo potete scrivere qua nel video o magari sotto potete commentare tranquillamente noi ci vediamo alla prossima live o al prossimo video mi raccomando ragazzi una cosa importante cliccate il tasto like per supportarmi un po con l'algoritmo e soprattutto iscrivetevi se ancora non l'avete capito iscrivetevi se ancora non l'avete capito iscrivetevi se ancora non l'avete capito